Un saluto a tutti i videoascoltatori d'Italia Medievale. Oggi presentiamo un romanzo storico dal titolo La spada e la croce di Maurizio Selvatico, pubblicato dalle Mezzelane da pochissimo. Sono un bel 530 pagine per soli 18 euro, quindi è assolutamente abbordabile e io come mia abitudine non rubo altro tempo all'autore perché voglio sentire cosa ci racconta di questa spada e la croce. Prego Maurizio, a te. Grazie Maurizio. Allora direi prima di iniziare a entrarci nei meandri del romanzo. Vorrei senz'altro, come dire, in qualche modo spiegare anche quali sono state le motivazioni, no? È la genesi che ha portato a questo romanzo e anche al titolo stesso poi fondamentalmente. Ma diciamo che l'origine è avvenuta già qualche metto fa, perché parliamo, eravamo all'incirca nel 2000, 2011, sì, all'incirca. C'è, diciamo, c'è stata fondamentalmente, come dire, una sorta di scommessa promessa e nel senso, e mi spiego, la storia la studio praticamente da un trentacinque anni, quindi più o meno è il tempo in cui invece io mi occupo della mia attività principale che è nell'ambito dell'information technology, quindi per la legge del contrapasso chiaramente mi sono interessato di argomenti umanistici fondamentalmente oltre alla storia. Quindi in quella, in quell'anno avevo una, ho ancora una figlia che in quel periodo aveva 11 anni, quindi frequentava la seconda media e in quel periodo si studia il medioevo sostanzialmente alle medie. E quindi proprio per questo motivo mia figlia mi aveva fatto notare che i manuali, i testi scolastici erano molto scarni. Del medioevo fondamentalmente sì, c'è una cronologia, ma lo sappiamo bene, no, come viene insegnata la storia nel scuole e quello che rimane ai giovani fondamentalmente è il periodo delle crociate, punto. Io a quel punto ho detto, ma guarda, probabilmente ti sbagli perché o comunque il tuo insegnante non ha approfondito la materia e considera che c'è molto, c'è molto altro. Ma no, non è possibile. Dico, guarda, allora, facciamo una scommessa, guarda, vuoi dire che ci scrivo proprio un libro sopra su questo argomento. No, non è possibile, insomma, è andata così. Poi l'ispirazione in realtà l'ho avuta un giorno, ero in visita nella Basilica di Santa Croce in Gerusalemme a Roma, io vivo a Roma, anche se la mia famiglia di origine è profondamente veneziana. Quindi in visita appunto alla Basilica di Santa Croce dove sono custodite delle reliquie, le reliquie della Croce di Gesù Cristo che la regina Elena, madre dell'imperatore Costantino, portò da Gerusalemme nel 325. Lei lì aveva il suo palazzo, palazzo Sessoriano dove viveva fondamentalmente e a fianco, essendo lei una credente, non diciamo della prima ora ma anzi era profondamente credente, poi avviarono la costruzione poi di quello che poi sarebbe diventata poi la Basilica di Santa Croce. Quindi davanti a queste reliquie ho avuto questa illuminazione, mi sono chiesto ma se qui ci sono dei frammenti della Croce, il resto della Croce che non era piccolina, dove è andata a finire? Quindi sono partito da questa domanda e di lì ho iniziato poi i miei studi, i miei approfondimenti, che poi fondamentalmente non è che hanno portato a molto perché la Croce lo sappiamo, fino alla terza crociata era rimasta in possesso dei cristiani a Gerusalemme, poi la vittoria di Saladino chiaramente con la cacciata dei cristiani e la sottrazione proprio della Croce, quindi esisteva la Croce, in realtà era chiaramente molto più ridotta, è rimasto diciamo una cosa quasi simbolica insomma, però chiaramente per i cristiani aveva un valore tantologico, diciamo di importanza fondamentale. Quindi ecco l'origine questa è stata fondamentalmente la condizione sine qua non che mi sono posto, quindi nello scrivere romanzo fondamentalmente sono stati due, il primo appunto che trattassi un argomento nuovo per un romanzo ovviamente, io mi riferisco al romanzo, e che poi il protagonista fosse veneziano, questi erano diciamo i due paletti che mi ero messo, veneziano perché volevo in qualche modo comunque rendere omaggio a quella che è la mia terra di origine, insomma dei miei avi ecco sicuramente. Per quanto riguarda l'originalità, in realtà il titolo non è molto originale perché insomma La Spada della Croce ce ne sono insomma di libri usciti con questo titolo, ma per quello che riguarda diciamo almeno quelle che sono state le mie intenzioni e vedendolo un pochino in base anche al senso, al significato che ha da un punto di vista proprio per quello che riguarda diciamo la nostra visione cristiana di questi due termini. Nell'iconografia la spada rappresenta la verità, la giustizia, la croce, la via. Quindi è questo il diciamo quello che possiamo trovare, l'anima che possiamo trovare dentro al romanzo sostanzialmente è proprio questa. Ho voluto già insomma quindi dieci anni fa cercare di dare un messaggio, un messaggio legato alla croce ovviamente, messaggio che poi si è in questo momento riproposto ancora più forte per gli accadimenti che tutti sappiamo bene stanno accadendo insomma in giro per la terra. Il romanzo ecco allora vediamo un pochino di dare un po' un antefatto, quindi come diciamo si è strutturato. Vabbè, il periodo è il primo quarto del XIII secolo, la storia inizia a fine 1219-1220, quindi siamo in questo periodo. Il XIII secolo è un secolo straordinario, per me, almeno per quello che mi riguarda, è il secolo che manifesta in pieno il Medioevo, perché ci troviamo tutto dentro, tutte le contraddizioni e tutti i presupposti che poi porteranno alle epoche successive. C'è modernità anche nel XIII secolo, basta citare non so, la Magna Carta Libertatum che è alla base delle costituzioni delle democrazie occidentali attuali. La nascita delle lingue volgari, noi parliamo in italiano perché c'è stato il XIII secolo e le figure che poi hanno chiaramente dato vita poi alla nostra lingua. La secolarizzazione della Chiesa, quindi la Chiesa che dopo l'anno 1000 incomincia a diventare, ad avere un ruolo di potenza politica oltre che appunto spirituale. ecco, un'altra cosa che si può ricordare, nel XIII secolo possiamo citare i Vespi siciliani, quindi la prima grande manifestazione di popolo che c'è stata, la ribellione di popolo. E poi va bene, tutto il resto, i Santi, i grandi teologi, i grandi re, i grandi papi, Innocenzo III, Bonifacio VIII che richiudono il secolo. Quindi ecco, con questi presupposti, ho dato vita a questo romanzo. Quindi il romanzo fondamentalmente che cos'è? È una sorta, diciamo, di caccia al tesoro, io la chiamo, ma è una missione segreta. L'imperatore Federico II ordina di andare a recuperare la croce che è custodita dai musulmani nel palazzo del fratello di Al-Malik, del sultano Al-Malik, a Damasco. Quindi incarica questo gruppo di cavalieri teutonici, un gruppo d'elite che possiamo paragonarli ai Marines di adesso, di partire quindi dall'Europa e andare in Terra Santa per questa missione. Il protagonista è un giovane veneziano, come dicevo, Marco Tiepolo si chiama il protagonista. Tiepolo, tra l'altro, è un cognome storico veneziano e uno dei doggi è proprio Jacopo Tiepolo, che poi sarà successivo proprio anche a questa vicenda, quindi successivamente. In realtà per me, ecco, Marco Tiepolo è l'alter ego di Jacopo Tiepolo, quindi il doge, quindi rappresenta questo, ecco, proprio per dare omaggio alla città, quindi a Venezia. L'ho fatto in questo, ecco, l'ho concepito in questo modo, ecco, il personaggio. Chi è questo personaggio? Beh, è un giovane scapestrato, libertino, secondo genito, una famiglia benestante, il padre è un ricco commerciante di stoffe, quindi un ragazzo, diciamo che la vita se la gode, una sorta, come dire, di San Francesco antelitteram, ecco, possiamo dire. La sua vita, però, nella Venezia di quel periodo, che insomma era una città in via di costruzione, cioè stavano iniziando a paligare le varie isole della laguna, quindi si stava costruendo la città, quindi comunque era una città ancora, non era fortemente popolata, e l'ambiente, no, delle famiglie benestanti, nobiliari, era molto stretto, quindi per lui fondamentalmente la vita era abbastanza monotona, anche se poi se la godeva, ecco. E come... Alla ricerca, no, di emozioni forti. Una delle emozioni forti in quell'epoca era recarsi incrociata nella Terra Santa. Questo chiaramente se lo potevano permettere solamente le famiglie benestanti, perché sappiamo quanto poteva costare, ecco, la bardatura, il cavallo e tutto quello appunto che ci ruotava intorno. Quindi ecco, questo ragazzo che appunto ha questa vita così sregolata e viene catapultato in una vicenda molto grande di lui. La vicenda parte fondamentalmente nella, diciamo, modo più consona alle caratteristiche del personaggio. Si trova coinvolto in un duello per motivi appunto chiaramente d'onore, legati appunto all'onore. Lui chiaramente ha la meglio, commette questo delitto, ma in realtà si difendeva, ecco, perché era stato, insomma, in qualche modo minacciato poi da forze superiori e quindi lui è costretto poi a fuggire fondamentalmente. O lui è il protagonista. L'antagonista è lui stesso. O meglio, è quella parte della sua coscienza o della sua anima. Il romanzo può essere visto sia da un punto di vista laico che spirituale, ovviamente. Quindi a seconda del modo in cui ci si pone, è chiaro che l'aspetto che io vado a toccare fondamentalmente in questo romanzo è legato proprio alla questione del peccato che sappiamo nel Medioevo, quanto pesasse. Soprattutto in quel periodo, quando ancora il concetto di purgatorio non era ben chiaro, per cui si aveva l'inferno e il paradiso. Era una concezione duale, concezione duale che poi possiamo riscontrare anche in tante altre situazioni. O eri guelfo o eri chi bellino, oppure eri chi credente o eri eretico. Questa era la situazione. Quindi la questione del peccato è qualcosa che ricorre in tutto il romanzo. E' chiaramente l'espiazione del peccato. Il ragazzo quindi, sì, si trova coinvolto involontariamente in questa vicenda, ma fondamentalmente è quello che cerca lui, cioè cerca di espiare questo peccato che lui ha commesso. Tant'è vero, ecco, che io lo leggo un attimino. Nell'epigrafe faccio già riferimento a questo. Ecco, la leggo questa epigrafe. A volte i rimorsi fanno scivolare la mente in un tunnel buio e misterioso che si è obbligati a percorrere per trovare una via di salvezza. In altri casi capita che costringano le persone a sfide straordinarie, pur di cercare pace per la propria coscienza. La cosa peggiore che può accadere, però, è quella di sentirsi in colpa senza provare sofferenza e convincere se stessi che si possa vivere senza pentimento. Quindi la questione è già ben delineata proprio a partire dall'inizio del romanzo. Quindi l'alter ego è la parte corrotta della sua coscienza, della sua anima, che io poi fondamentalmente l'ho identificata nel male stesso. Quindi la presenza anche del demoniaca, del demonio, insomma, di Satana, è ricorrente in tutto il romanzo. Per quanto riguarda i coprotagonisti, sono due fondamentalmente. I personaggi sono tantissimi, ma fondamentalmente due coprotagonisti. Andrea Gioia, che è il suo amico d'infanzia, la classica persona che tutti vorrebbero come amico, quindi fedele, coraggioso, diciamo tutte le migliori caratteristiche che può avere un amico. E l'altro è un siriano, quindi un musulmano fondamentalmente, di mezza età, sulla cinquantina d'anni, che si chiama Mustafa Farouk, che è legato però all'ordine teutonico. Questo è un po', come possiamo dire, un trait d'union tra il cristianesimo e l'islamismo. Quindi lo troviamo a cavallo di questi due mondi. Poi nel romanzo si spiegherà perché lui si è legato ai cavalieri teutonici. Quindi questi sono i personaggi principali. Oltre a questi poi, ripeto, ci sono tutta un'altra serie di personaggi, ma che hanno caratteristiche ben definite, una psicologia dei caratteri chiari, nei quali poi ognuno ci si può anche rispecchiare fondamentalmente. Allora, dicevo, la vicenda appunto parte in questo modo, quindi lui scappa, si imbatte in questo contingente di cavalieri teutonici che si trovavano in quelle zone, quindi nelle zone appunto della Serenissima, e da lì poi inizia tutta la vicenda. Ho una cosa, ecco, tra le tematiche che io tratto poi nel romanzo, uno degli aspetti è quello del viaggio, dell'avventura. È una cosa che a me è... ma ho sicuramente anche per la mia passione letteraria, i miei tre testi principali sono, sui quali mi sono formato, sono l'Odissea, la Divina Commedia e i Promessi Sposi. Io ho basato la mia costruzione letteraria su questi tre testi. E poi tutta la letteratura dell'Ottocento, i grandi romanzieri dell'Ottocento, che raccontavano appunto queste storie, queste grandi avventure. Quindi è abbastanza... ecco, ce l'ho nel mio DNA questo, quindi abbastanza mi viene naturale e in quasi tutti poi i romanzi che io poi scrivo, ecco, si presentano in questo modo. Quindi l'idea del viaggio per me è fondamentale, soprattutto per quello che riguarda questa storia. Perché? Perché non volevo limitarmi solamente a parlare delle crociate, dei templari, come capita spesso. Devo dare una visione un pochino diversa, a parte la storia in sé è diversa, perché di crociate veramente non ne parlo tantissimo. in quel periodo era in corso la Quinta Crociata, chiaramente lo accenno più volte, ma non è l'argomento che ci interessa. Mentre a me interessa molto questo discorso del confronto delle civiltà. Questo viaggio è una traslazione che parte dall'Occidente, quindi dall'Europa feudale, gotica, Cuba, un'Europa piena di foreste, dove ogni tanto spuntava qualche paesello, qualche borgo, qualche feudo, castello, la maggior parte sui fiumi o lungo le coste marittime, ma fondamentalmente era una grande foresta. L'Europa, in quel periodo ci saranno stati sì e no una cinquantina di milioni di abitanti in Europa, la maggior parte erano in Francia. Comunque ecco, questo gruppo che parte dall'Europa, attraversa i Balcani, arriva in Terra Santa e poi prende la tangente. Prende la tangente e arriviamo addirittura fino in India. Quindi presenta un kaleidoscopio di civiltà, di culture e soprattutto ci tenevo a fare entrare in questa vicenda anche i mongoli. Proprio in quel periodo Gengis Khan stava avanzando, era in una fase di conquista dell'Asia centrale, quindi della Perde, quella che era la Persia, non la Corasmide, la Corasmia, come vogliamo chiamarla. E quindi mi interessava anche far emergere questo aspetto, quindi questa grande vicenda. Poi ovviamente le altre tematiche sono legate, sì, senz'altro al confronto tra le civiltà, anche da un punto di vista religioso, quindi qui si parla di cristianesimo, di islam, di ebraismo, di buddismo, arriviamo a parlare anche. Lo scontro politico, lo scontro che c'era tra il Sacro Romano Impero e il papato, quindi Federico II e Onorio III. Federico II che chiaramente faceva un po', come dire, come gli pare, nel senso prendeva impegni, assumeva impegni di partecipare alla crociata, poi invece faceva tutt'altro, aveva una sua visione chiaramente che divergeva da quella del papato, sicuramente. Poi va bene, Onorio III provvederà pure a scomunicarlo nel 1225, diciamo la prima. Ma fondamentalmente Federico II, comunque lo si veda, è stato un grande imperatore, un imperatore, sì, pieno di contraddizioni, per carità, però è stato il primo imperatore moderno, insomma, che ha anticipato le monarchie assolutiste che poi verranno nei secoli a venire. E poi c'è il discorso, chiaramente, che lui aveva un'idea molto chiara di quello che aveva intenzione di fare, cioè riunificare l'Europa addirittura. Poi lui nel 1229, durante la Sesta Crociata, una crociata incruenta, quindi non si è toccato spada, lui si mette d'accordo proprio con Al-Malik, quindi trovano un accordo di pace, senza spargimento di sangue, addirittura Gerusalemme, città aperta, una cosa impensabile adesso, no? Che figuriamoci all'epoca. Ecco, queste, diciamo, sono un pochino le tematiche che ho trattato. Poi, chiaramente, ci sono tanti altri aspetti, aspetti legati anche alla storicità, quindi alla, alla, alle figure storiche che poi nel romanzo si incontrano, quindi queste, quelle che ho già citato, ovviamente, ma poi, ecco, ad esempio, una figura che emerge proprio all'inizio del romanzo è San Francesco, San Francesco, che proprio in quel periodo era di ritorno da Damietta, dove aveva incontrato Al-Malik, tentando di convertirlo al cristianesimo, e lui fa scalo proprio a Venezia, quindi c'è proprio questa immagine, no? Questa immagine di questo, di questo santo, che, che si trova lì a Venezia. Poi ci sono altri personaggi che chiaramente emergono, i figli di Gangescan, quindi Okutai e Tolui, che erano i coloro che fondamentalmente andavano in guerra, poi ecco, il padre, il padre comandava. E altre figure, poi, insomma, ecco, che via via emergono, per esempio, ecco, anche questa figura della figura di Erma Monsalza, che era il gran maestro all'epoca, il gran maestro dell'ordine dei cavalieri appunto teutonici. Quindi questa figura a cavallo un po' tra, no? Tra impero e papato, che doveva un po' barcamenarsi, perché poi l'ordine teutonico era un ordine fondamentalmente monastico, era più che altro dedito a attività, no? Di aiuto, soccorso dei pellegrini in Terra Santa, più che militaresco, insomma. Però, ecco, questa figura è importante, è fondamentale. Beh, allora, intanto, ecco, un'altra cosa, devo dire, l'approccio al periodo qual è stato? Sì, è chiaro che mi sono basato su storiografia abbastanza consolidata, nel senso è che io predeligo, predeligo quindi tutto Marc Bloch oppure comunque tutti i francesi, i storici francesi, no? Del Novecento, Le Goff oppure anche gli italiani, no? Non so, per esempio il professor Cardini con il quale ho avuto anche diversi diversi colloqui in merito, no? Ci siamo confrontati su questa su questa materia. Addirittura lo abbiamo lo abbiamo fatto durante il lockdown quindi in maniera abbastanza simpatica è stato. Ecco, io poi basandomi chiaramente su questo tipo di storiografia ho cercato di ottenere un equilibrio, un'equidistanza dalle fonti e cercando di rappresentare in maniera più obiettiva possibile poi quello che è stato quel periodo ecco, fondamentalmente. Non so, se hai qualche domanda da farmi in particolare? Beh, no, io penso che la cosa migliore sia quella di acquistare il tuo romanzo e leggiamo per... Ecco, un'altra cosa che ci tenevo ecco a dire. La prossima, diciamo, dalle prossime ristampe ho suggerito alla casa editrice di inserire una cartina geografica con il viaggio che viene svolto perché il viaggio è veramente complesso ma possiamo dire che in qualche modo anticipa quello che fece poi Marco Polo qualche anno dopo e quindi essendo molto complesso le tante città che si toccano i luoghi che poi io descrivo no? Aleppo, Damasco, Bagdad, Erat e tante altre città ecco è importante avere anche sott'occhio no? Come poi questo viaggio prosegue è un grande cerchio che questo giovane appunto compie è un cerchio che poi si chiude chiude la vicenda e chiaramente a lui lo in qualche modo libera di quelle che sono state poi le sue le sue angosce poi tutte le sue paure il libro ecco è una grande avventura quindi non voglio dire nulla nel senso perché però ci sono frequenti colpi di scena l'ho scritto in questo modo proprio per forse anche pensando ai giovani nel senso i giovani appunto libri di storia non è che poi siano così poi appassionati però l'ho pensato a loro nel senso che se io riesco a dare alla storia movimento colpi di scena qualcosa che la rende viva mi pace continuamente allora forse qualche speranza magari ci può essere ci potrebbe essere secondo me questo diciamo un pochino così fatto un pochino un riassunto di quello che che ho voluto fare ecco con questo libro considerando ecco che poi ripeto come periodo storico i miei due secoli si sono il trecesimo e il quattordicesimo quindi io mi concentro su quei il romanzo che sto scrivendo adesso è su Pietro del Morrone quindi sto scrivendo una sorta di memoriale di quest'uomo chiaramente pure questo è un romanzo di fantasia sarà molto duro scriverlo perché perché poi di Pietro del Morrone abbiamo delle biografie straordinarie ma dell'uomo fondamentalmente si conosce poco perché la persona che ha vissuto 50 anni sui monti della Maiella come Eremita insomma non se ne sa molto quindi per dire che il mio periodo è questo il mio periodo di interesse aspettatevi da me altre storie di questo genere in questo periodo senti ti ringrazio tantissimo grazie a te il titolo del romanzo è La spada e la croce di Maurizio Selvatico che ce ne ha parlato ampiamente Le mezzelane l'hanno appena pubblicato e io ricordo anche che sono 530 pagine per soli 18 euro quindi un prezzo assolutamente vantaggioso prezzo politico ti ringrazio di aver accettato il nostro invito grazie tante anche a voi a te a tutta quanta l'associazione grazie ne abbiamo tanto bisogno bene e ricordo infatti a tutti i nostri video ascoltatori di seguirci sul sito www.italiamedievale.org e arrivederci alla prossima video presentazione arrivederci ciao ciao A presto